... Muore in cava, schiacciato da una macchina, perdere la vita a Stazema, un operaio di 59 anni, vittima di un incidente sul lavoro. Al vie i lavori al campo Conido, tanti anni di attesa, ha aperto il cantiere per il rifacimento della pista di atletica Moreno Martini, dureranno 4 mesi. Occupazione a rischio, l'allarme della CDL, previsioni negative del sindacato, rischiamo una ricaduta peggiore della prima ondata. Lucchese ostaggio del Covid-19, altri 5 positivi in casa rossonera che porta il totale a 13, è in forte dubbio la disputa della partita di domenica prossima ad Olbia, nelle prossime ore, nuovo giro di tamponi. Ben trovati a questa edizione del TG Noi, lo avete sentito anche dai nostri titoli. In apertura oggi il tragico incidente che si è verificato a Stazema in una cava del marmo ha perso la vita a un operaio di 59 anni. Sentiamo Luigi Casentini. Un operaio di 59 anni, Andrea Figaia, è morto a causa di un incidente sul lavoro alla cava Borra Larga nel bacino marmifero del Monte Corchia, sopra le Vigliani. Il dramma è successo a metà giornata, secondo quanto ricostruito dai soccorritori, l'uomo è rimasto schiacciato tra un macchinario Fantini da Galleria, una macchina che si manovra tramite telecomando, e la parete rocciosa, riportando uno schiacciamento addominale purtroppo fatale. L'allarme è stato lanciato dai colleghi di lavoro sconvolti per l'accaduto. Sul posto sono intervenute l'automedica di Querceta, un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri, il soccorso alpino e i tecnici della prevenzione sul lavoro della ASL. L'uomo era residente ad Avenza, a Carrara. La notizia si è diffusa rapidamente, generando sconcerto e cordoglio nel mondo del marmo. La vittima, peraltro, è un omonimo di Andrea Figaia, segretario provinciale della CIS. Alla cava, una volta presa la notizia dell'incidente, si è recata anche la segretaria generale della filea CGL di Lucca. Le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero del settore, sia del comprensorio versiliese che di quello massese, per l'intera giornata di giovedì. Siamo sotto shock, devo dire la verità, in questo momento siamo sotto shock. La mattina si va a lavorare e si pensa la sera di tornare a casa, non si pensa di tornare a casa dentro una vara. Quindi sono fortemente provata perché conosco benissimo l'azienda, conosco i colleghi di lavoro e questa cosa mi lascia veramente un grosso segno addosso. Voi indirete uno sciopero? Sì, indiremo uno sciopero come Fillea, Filca e Feneal, quindi Fillea CGL, Filca CIS e Feneal Will, domani mattina, domani, tutta la giornata di domani, quindi uno sciopero di otto ore. La cava teatro della tragedia è una delle eccellenze del comprensorio a Puano, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Adesso saranno gli uomini dell'ispettorato della sicurezza a stabilire le cause di questa tragedia. Non ci risulta che avesse problemi di sicurezza, quindi andrà verificata ovviamente la dinamica e per questo ci sono gli organi preposti. Però noi da un punto di vista sindacale come Fillea CGL assistiamo i lavoratori, seguiamo i lavoratori, veniamo spesso qua a fare le assemblee e c'era sempre sembrato di aver trovato una situazione positiva. Ovviamente questa tragedia dovrà essere verificata dagli organi preposti e perché è successo. Veniamo adesso agli aggiornamenti riguardo ai nuovi casi di positività al coronavirus. Continuano a crescere i numeri in Toscana, sono 1.708 i nuovi contagiati, 987 i ricoverati, ovvero 64 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva sono ricoverate 130 persone, 11 in più rispetto alla giornata di ieri e oggi purtroppo si registrano anche 7 decessi. L'età media è di 82,3 anni. Veniamo al dettaglio dei casi nella nostra provincia di Lucca dove i nuovi casi sono 142, 62 fanno riferimento alla Piana con 36 casi a Lucca, 18 a Capannori, 4 ad Alto Pascio, 2 a Porcari e 2 a Pescaglia. 36 casi fanno riferimento alla Valle del Serpio, ovvero 4 positività a Bani di Lucca, 2 a Barga, 5 a Borgamozzano, 6 a Camporgiano, 1 a Castelnuovo, 1 a Castiglione, 4 a Coreglia, 3 casi a Gallicano, 2 a Minuciano, 5 a San Romano, 2 a Sillano-Giuncugliano e 1 a Villa Colle Mandina. 44 casi invece sono da riferire all'area della Versilia con 5 nuovi positivi a Camaiore, 2 a Forte dei Marmi, 12 a Massarosa, 3 a Pietrasanta, 1 a Serravezza, 2 a Stazzema e 19 casi a Viareggio. E anche la Lucchese è duramente colpita dal Covid-19, infatti si registrano altri 5 casi di positività. Si tratta di 4 calciatori e un elemento dello staff tecnico, quindi i 5 nuovi casi si aggiungono agli altri 8 già registrati nei giorni scorsi, portando il totale dei positivi all'interno della squadra a 13. Adesso, a proposito di emergenza coronavirus, sentiamo l'appello del Presidente della Regione Toscana, Gianni, riguardo alle donazioni di Plasma. Quello che io faccio è un appello. Noi ci stiamo trovando ad affrontare un'emergenza sanitaria senza precedenti e sapete che in questo momento la questione fondamentale è seguire e curare negli ospedali i malati che sono stati contagiati dal Covid. Vi è un problema di donazioni del sangue, quindi il mio appello è a donare il sangue per loro. Naturalmente sono in una situazione particolare, quindi il sangue per i malati Covid è un sangue che fa i conti col fatto che vi siano presenza di anticorpi che hanno nel corpo del donatore sconfitto il Covid. Io sono convinto che ce ne sono molti, perché da marzo ad oggi sono tante persone che hanno vissuto la patologia del Covid-19 e che l'hanno sconfitta. Ecco che l'appello è a loro, è mirato a loro. Donate il sangue, perché questo ci può aiutare a immettere il sangue di donatori che hanno vissuto e sconfitto il Covid in coloro che stanno lottando. Stanno lottando contro quello che è in questo momento il nostro principale nemico, che sta portando e disseminando in Italia, in Europa, nel mondo questa pandemia. Quindi un appello perché si doni il sangue da parte di coloro che hanno avuto il Covid in virtù della necessità di avere sangue con anticorpi Covid che possa essere utilizzato. Per far questo io vi invito a fare un numero che leggo lentamente perché possa essere annotato. E' quello che risponde al servizio che offre la Regione Toscana per questo 055 43 85 860. Ripeto 055 43 85 860. Cambiamo decisamente pagina e parliamo dei lavori che sono iniziati alla pista di atletica al campo sportivo Moreno Martini. Sentiamo Silvia Toniolo. Dopo tanti anni di attesa sono iniziati i lavori per il rifacimento della pista di atletica Moreno Martini. Dureranno circa quattro mesi e dunque, secondo l'auspicio dell'amministrazione comunale, saranno conclusi in tempo per la ripartenza della stagione sportiva 2021. L'intervento, reso possibile con la partecipazione del Comune al bando realizzato dal CONI nell'ambito del Fondo Nazionale Sport e Periferie per 612 mila euro e con il cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per 140 mila euro servirà a ristrutturare completamente l'impianto delle tagliate, punto di riferimento di tanti sportivi lucchesi e non solo. Questo è un momento complesso, però la progettualità che è stata messa in campo è una progettualità che si rivolge agli anni futuri, si rivolge al momento in cui si potrà di nuovo fare sport attivo con un concorso di molte persone, si rivolge alle prospettive che la città ha di ospitare grandi avvenimenti sportivi all'interno di questi impianti e quindi all'interno della nostra città perché lo sport è un grande veicolo economico come ricaduta per il contesto in cui gli avvenimenti avvengono e soprattutto però mi preme ribadire un concetto che le società sportive sono luoghi educativi, lo sport è educazione, educazione dei giovani, educazione dei ragazzi. La prima parte degli interventi consisterà nello smontaggio di tutte le attrezzature e le infrastrutture del campo, successivamente verrà rimosso il vecchio manto della pista e sarà ristrutturato il sottofondo con la realizzazione di nuovi cordoli e l'adeguamento dei piani di posa. permette grazie a questo intervento di ritualizzare a pieno le potenzialità di questo impianto e quindi poter essere sfruttato non solo in primis per la città di Lucca ma per tutto il territorio provinciale. Questo quindi comporta anche sotto un profilo prettamente agonistico la possibilità di ritornare a pieno di quelle che sono le potenzialità per le competizioni anche e soprattutto in ambito FIDAL. La CGL lancia l'allarme, va bene tutelare la salute ma il rischio è di perdere anche molti posti di lavoro. Sentiamo il servizio. Servono misure per garantire non solo la salute ma anche l'occupazione. Con la chiusura nei settori della cultura e dello sport e con la drastica riduzione del lavoro per bar e ristorazione si rischia di ricadere ai periodi di aprile e maggio e di tornare ad avere oltre 30.000 persone in cassa integrazione. Secondo le stime della CGL le conseguenze della semichiusura questa volta potranno essere anche peggiori. I settori del turismo e dei servizi, secondo il sindacato, pagheranno il conto più alto della crisi dopo una stagione estiva fortemente compromessa a causa delle restrizioni. Per non parlare degli oltre 7.000 stagionali, 4.000 solo in Versilia, che si sono trovati senza lavoro. La nostra preoccupazione è che anche a questo giro si divada sugli stessi numeri. Diciamo che oltre la metà dei cassa integrati sono lavoratori di quel settore lì, con turismo, commercio e servizi. In questo momento, per fortuna, è stato prorogato il blocco di licenziamenti a livello nazionale, quindi fino alla fine di gennaio nessuno sarà licenziato. Il problema è vero che, specialmente nel settore del turismo, ma anche nel commercio, tanti lavoratori stagionali che venivano chiamati a fare la stagione non sono stati neanche chiamati. In provincia di Lucca, il settore cartario ha salvato molti lavoratori grazie alla produzione della carta anche ad uso sanitario. Sì, è quello che ha permesso alla nostra provincia di pagare un prezzo meno alto, sempre o comunque importante, ma meno alto nel settore degli occupati diretti. Adesso ci spostiamo a Firenze perché c'era anche una nutrita delegazione di imprenditori del comparto dei pubblici esercizi proveniente dalle province di Lucca e Massacarrara alla manifestazione promossa da Fipe e Confcommercio e tenutasi questa mattina in Piazza Duomo. Tappa Toscana di un'iniziativa su scala nazionale che ha coinvolto 18 città e altrettante piazze all'insegna dell'hashtag Siamo a Terra. Una protesta nata sulla scia dell'ultimo DPCM firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, come è noto, ha imposto la chiusura dei pubblici esercizi alle 18.00. Una quarantina gli imprenditori partiti dalle province di Lucca e Massacarrara e guidati dal presidente interprovinciale di Confcommercio Rodolfo Pasquini e dal direttore Sara Giovannini. Adesso passiamo al DL Ristori. È stato approvato ieri ma già ha scatenato numerose polemiche. A parlare è Confartigianato Lucca che dice che le risorse sono del tutto insufficienti. Sentiamo il servizio. Mezzi di contenimento scarsi e contraddittori. Questo è il duro commento di Confartigianato Lucca al decreto Ristori approvato lo scorso 27 ottobre dal Consiglio dei Ministri. 5,4 miliardi di euro, secondo l'associazione, sono insufficienti per supportare le piccole e medie imprese messe in ginocchio dall'emergenza sanitaria. Solo nella provincia di Lucca sono circa 10.000 gli artigiani e i piccoli imprenditori che nei mesi scorsi hanno adottato, sopportando nei costi, le misure di contenimento dei contagi previste dai protocolli per la sicurezza, in molti casi, dopo aver dovuto chiudere completamente la loro attività per lunghe settimane. Il problema è sui criteri con cui vengono dati questi soldi. Noi non abbiamo mai chiesto interventi a pioggia, ma le chiediamo in base alla riduzione effettiva del fatturato che hanno avuto le aziende. Sicuramente questi soldi penso che non basteranno, perché le aziende interessate sono tante. La ricetta della ripresa, secondo Confiartigianato, deve passare da una migliore gestione delle risorse evitando dispersioni e oltre all'impegno dello Stato, secondo l'associazione, serve il sostegno dei comuni che devono trovare misure adeguate per rilanciare le imprese del proprio territorio. Stamattina abbiamo avuto una videoconferenza con il Comune di Lucca che si è impegnato a ripresentare alcune misure, ma le è stato chiesto con forza, nonostante le difficoltà che ci abbiano anche loro per la riduzione dei bilanci, dei soldi che gli arrivano nei bilanci, di fare uno sforzo ulteriore. E ci contiamo su questi sforzi, perché alle aziende anche qualche centesimo fa comodo in questo momento. Il Consiglio Comunale di Lucca ha dato il via libera alla variante urbanistica per la realizzazione del nuovo parcheggio ad Antraccoli nelle vicinanze della scuola primaria Monsignor Guidi. La zona in questione risulta infatti carente di posti auto, soprattutto durante il periodo scolastico e in particolare negli orari che coincidono con l'entrata e l'uscita dei bambini dalla scuola. L'intervento servirà contemporaneamente a realizzare un parco giochi attrezzato che risponderà alle esigenze della scuola Monsignor Guidi. Adesso cambiamo pagina perché l'Unione Comuni Garfagnana si è aggiudicata a un contributo regionale per i nuovi piani urbanistici. Ci racconta tutto Guido Casotti. L'Unione Comuni della Garfagnana ha approvato ufficialmente il piano strutturale intercomunale che interessa tutti i comuni del territorio garfagnino. Il progetto ha permesso all'ente di risultare primo in graduatoria, ottenendo così un contributo di 225 mila euro dalla regione da spendere per la stesura dei piani operativi intercomunali nei comuni della Garfagnana. Un riconoscimento importantissimo della regione toscana che individua in questo progetto un progetto pilota che tiene insieme tutti i comuni della Garfagnana, che dà un ruolo importantissimo all'Unione in un'idea di sviluppo nuovo della Garfagnana legata alla lettura del suo territorio. Questo è successo grazie al contributo di tutti i sindaci in una visione finalmente unitaria che ci dà forza e ci dà la possibilità di una lettura unitaria di tutto il territorio della Garfagnana da un punto di vista urbanistico e da un punto di vista della sicurezza del territorio. Quindi potremmo fare delle scelte concrete sul territorio tutti insieme. Infatti, grazie a questo bando, tutti i comuni dell'Unione potranno aggiornare i loro piani urbanistici e lo potranno fare risparmiando molti soldi. Basti pensare che, mediamente, questa operazione ha un costo che si aggira sui 70 mila euro. Grazie a questo bando, invece, ogni comune potrà risparmiarne circa 50 mila, mantenendo ogni singolo ente la propria autonomia decisionale. Altro aspetto importante sarà anche quello di concepire nuovi piani regolatori in armonia con gli altri comuni e con il territorio. Sarà quindi quello che disciplinerà il territorio per tutta la Garfagnana e per tutti i comuni. Ogni comune avrà la sua parte di piano operativo e insieme sarà un piano operativo generale per tutti i comuni. E prosegue la mappatura della città per l'app Lucca Senza Barriere. Gli studenti di alcuni istituti superiori sono coinvolti effettivamente in un vero e proprio censimento dell'accessibilità non solo della nostra provincia ma in realtà di tutto il territorio nazionale. Il progetto si rivolge a chiunque, non solo a persone con disabilità, ma anche a chi soffre di allergie, intolleranze alimentari e ancora a tutti i neogenitori che hanno interesse a scoprire preventivamente se un locale o un ristorante dispone di seggioloni e menù adatti ai più piccoli. Adesso torniamo sulle polemiche che riguardano le previsioni a tutela della salute. In particolare il mondo della cultura e dello spettacolo chiede considerazione. Il settore rischia infatti di subire un brutto colpo da questa seconda ondata di coronavirus. E in un video il produttore e l'attore lucchese Alessandro Bertolucci ci fa un quadro della situazione. Salve a tutti, grazie dell'ospitalità. Mi chiedete di commentare gli effetti del DPCM sul nostro settore. Gli effetti si sentono già da marzo, da quando è scattato il primo lockdown. Questo è un secondo lockdown, non è inutile chiamarlo semi-lockdown. Per il nostro settore è un secondo lockdown. Forse, anzi, è il primo che continua perché il settore dello spettacolo non ha mai recuperato posizioni. Cosa significa? Significa che, ahimè, i teatri non possono adesso a tenere aperto, ma non erano riusciti neanche ad aprire nei mesi precedenti per un discorso di numeri contingentati. Giustamente, non siamo un settore, diciamo così, recalcitrante. Però, giustamente, vogliamo quantomeno poter godere della stessa considerazione che hanno anche altre categorie di lavoratori. Il momento è difficile per tutti, non si può far finta di non vederlo, è difficile per tutto il mondo. Certamente bisogna avere un occhio attento, non soltanto alla situazione Covid, ma alla situazione economica nazionale e mondiale. E questo era l'ultimo servizio della nostra prima parte. Ci fermiamo qualche istante e poi, subito dopo, lo sport.